Il ministro Giorgetti e come noi moderati sottolineeremo che le risorse vanno concentrate e non disperse a sostegno di famiglie, imprese e politiche per la natalità. In particolare chiederemo che siano raddoppiate le detrazioni che le famiglie sostengono per le spese scolastiche. Presidente, il centrodestra ha trovato il candidato per la Liguria. Bucci, penso che sia una vera e propria notizia che è da tanto che non si riusciva a arrivare uniti subito. No, devo dire che noi abbiamo come sempre lavorato insieme e l'unità della coalizione è da 30 anni il nostro faro. Anche per la Liguria, alla fine abbiamo scelto il candidato che era il più autorevole di tutti, il sindaco di Genova, che ha dimostrato capacità di buon governo e ha cambiato insieme a Giovanni Totti la Liguria. Per questo abbiamo aspettato che lui sciogliesse la riserva e oggi il centrodestra in Liguria vincerà le elezioni e continuerà a governare. Questo dice, con tutto rispetto per Bonelli, il senso delle istituzioni che alcuni partiti qui in Italia hanno. Si vota per l'Italia, per il commissario italiano, così come il centrodestra votò convintamente, anche se non condivideva le politiche ovviamente del Presidente Commissario Gentiloni, a favore sia Fitto, cioè ICR, che sia convintamente il Partito Popolare Europeo e la Lega. Io credo che forse bisognerebbe fare una riflessione. Votare contro Fitto è votare contro l'Italia. Bonelli vuol dire che non gli interessa nulla dell'Italia.